Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video! Ecco finalmente arrivato il giorno, il video che tutti stavate aspettando, continuavate a chiedermi quando sarebbe uscito ed ecco finalmente il giorno. Nel video di oggi eseguiremo un rilevo topografico con l'ausilio del drone. Non dilunghiamoci in chiacchiere che sarà un video intenso. Andiamo! Prima di tutto ci tengo a fare un riepilogo di tutta la strumentazione e tutti i software che andrò ad utilizzare oggi in modo tale che sappiate già quello che vi occorre nel caso voleste procedere con questo tipo di rilievo. Il primo strumento fondamentale per la riuscita di questo rilievo è sicuramente il ricepitore e per oggi ho deciso di utilizzare un CHC i50 insieme al tablet da 6 pollici per rimanere leggera e il software Lens Tab 7. E questo per quanto riguarda lo strumento di misurazione. Come drone utilizzo un Mavic Mini 2, molto carino, molto leggero e molto pratico. Per la gestione del drone sul campo utilizzo l'app Lichy che mi permette di importare le missioni ed eseguirle. Comunque dopo vedremo tutto nel dettaglio. Come software di gestione dei punti topografici e in generale per la nuvola di punti utilizzo Topos. E per finire per la ricostruzione della nuvola di punti utilizzo il software Meshroom. Perfetto, ora che sapete tutto quello di cui avete bisogno possiamo procedere con il primo step. Andiamo! Studio preliminare. In questa fase ho deciso di recarmi direttamente sul posto per poter eseguire un sopralluogo accurato e verificare eventuali impedimenti del drone, quindi alberi, tralici o cose di questo tipo. Con me ho portato il mio ricevitore i 50 e quindi posso battere alcuni punti strategici che mi permetteranno di definire l'area di lavoro e più nello specifico l'area in cui volerà il drone. In questa fase non è necessario che io sia super precisa o abbia dei riferimenti a terra perché si tratta solo di punti indicativi per stabilire l'area di lavoro. Una volta ottenuti questi punti posso tornare in ufficio e preparare la missione sul Topos. Quindi andiamo! Ora che siamo in ufficio e abbiamo importato il nostro rilievo all'interno del programma Topos possiamo finalmente creare la nostra missione. Per farlo dovremo prima di tutto crearci un bel livello che chiameremo Area Rilievo. In questo livello dovremo poi creare una polilinea in modo tale che delimitiamo la zona in cui il drone dovrà andare a volare. Per farlo andiamo nella sezione CAD, Polilinea e grazie al comando Snap sul punto topografico possiamo delimitare la nostra zona. Ricordatevi di chiudere la polilinea con il comando CH. Ora che abbiamo creato l'area di rilievo dovremo crearci un layer con la rotta di volo. Quindi creiamo un nuovo layer e lo chiamiamo rotta di volo. Diamogli un altro colore, ok, e confermiamo tutto. Posizioniamoci sul layer rotta di volo e andiamo nella sezione Nuvole, Progetta missione, Missione su superficie con strisciate. Dovremo selezionare la polilinea chiusa dell'area da rilevare, quindi quella che abbiamo appena fatto. Una volta che l'abbiamo selezionata dovremo dare il primo punto per la direzione della strisciata. La direzione della strisciata che vi consiglio è dal lato più lungo. Questo permetterà al drone di fare meno strada e quindi sprecare meno batteria. Mi posiziono sul punto 1, do un clic e vado in fondo verso il punto 4 e do l'altro punto. Automaticamente apparirà questa finestra del calcolo di rotta. Non vi preoccupate se non conoscete tutti questi dati, potete selezionare il vostro drone o la vostra fotocamera direttamente da questo tool. Io possiedo il Mavic Mini 2, quindi mi basterà selezionare il Mavic Mini 2, dare la conferma. Ma come potete vedere ci sono tantissimi droni presenti in questa lista, quindi non vi preoccupate. Una volta selezionato, voi dovrete solamente impostare la quota di volo, io decido di volare a 25 metri. La sovrapposizione delle strisciate, io voglio stare su un 70%. E il gioco è fatto, quindi premete su calcola e vi appariranno queste fantastiche strisciate, che sarà poi effettivamente il percorso che farà il drone. Non è ancora finita, dovremo crearci un nuovo layer. Attenzione, la creazione del layer non è obbligatoria, però ve la consiglio perché in questo modo potrete gestire il lavoro in maniera molto più facile e agile soprattutto. Questo passaggio non è fondamentale, ma potrebbe esservi l'aiuto, ovvero quello di generare una mappa sotto al nostro rilievo, giusto per darci l'idea del territorio. Vi faccio vedere come si fa. Tegliamo il layer mappa. Ok. Ora ci posizioniamo sul layer mappa. Andiamo nella home, genera. Premiamo nella zona del rilievo. Siamo nella zona che a noi interessa, quindi automaticamente vi porterà lì, dove ci sono i punti. Selezioniamo l'area che ci riguarda, con il tasto Alt, e premiamo Crea mappa. Daremo un nome alla nostra mappa per poterla salvare e premiamo su Crea mappa. Atteniamo qualche secondo per la generazione della mappa. Ed ecco finalmente che il nostro rilievo ha preso anche forma. Come si sa, anche l'occhio vuole la sua parte. E tenete presente che avendo utilizzato i vari layer, se qualcosa vi dovesse dar fastidio, per esempio, che ne so, l'area del rilievo, potete defleggare il layer e la polilinea si spegnerà. Stessa cosa per la mappa. Se vi turba in qualsiasi momento, potete spegnere la lampadina e la mappa sparisce. Comunque, banda alle ciance, i dadi sono stati tratti, quindi andiamo su Nuvole. Simula missione, missione sul terreno piano, perché in questo caso è un terreno molto pianeggiante. E selezioniamo la nostra polilinea aperta della rotta di volo. Eccola qui. Automaticamente ci darà una simulazione di volo. Questaranno i dati chiave che ci serviranno poi per far partire la missione attraverso l'appliccio. Quindi la velocità di volo è di circa 10 km orari. L'intervallo dei fotogrammi è 3 secondi. Decisamente 3.6 può essere il massimo dei secondi tra uno scatto e l'altro. Se premo su play mi fa anche vedere il nostro drone che fa tutto il suo percorso. Diciamo che non è necessario, però come potete vedere queste cose gialle sono i fotogrammi e le varie sovrapposizioni. In questo caso non ci interessa. Mi dice che il tempo totale di volo sarà 372 secondi. La distanza percorsa totale sarà circa 1000 metri o meno di 1000 metri. Il numero di foto è 123. E le sovrapposizioni dei fotogrammi il 66%. Ora non devo fare altro che premere su missione. Esportare la missione. Scegliamo il percorso dove insedirla. Possiamo chiamarla missione 25. Premere su salva. Mi chiede se la voglio inviare al mio tablet. Al momento non è collegato, quindi vi dico di no. E mi appare questo fantastico rapporto di missione che è molto importante perché ci servirà poi una volta sul campo. In realtà i dati sono già salvati nella missione. L'unica cosa che non è salvata è il discorso dell'intervallo dei scatti. Una volta che saremo sul campo dovremmo dire noi che vogliamo gli scatti ogni 3 secondi e far partire manualmente il timelapse. Ma questa è l'unica cosa che dovremmo fare poi sul campo perché la missione ha tutti i dati salvati al suo interno. Chiudiamo. Per importare velocemente la missione che avete appena creato da Topos, quindi dal computer, al vostro tablet, potete utilizzare direttamente il sito dell'app Litchi che sarebbe flyvitchi.com. C'è la sezione Mission Hub e in questa sezione potete importare le vostre missioni. Quindi attraverso il tasto Import vi saprerebbe la finestra da cui potete selezionare il vostro file e importarlo comodamente. Altrimenti semplicemente potete inviare il file direttamente al tablet, ma diciamo che rimane un po' più scomodo forse. Ora che abbiamo terminato la fase di progettazione direi che possiamo andare in missione. Andiamo. Il rilievo d'appoggio. Siamo tornati nuovamente sul campo e la prima cosa da fare è posizionare i nostri target e rilevarli con il ricevitore. Ricordatevi che la sistemazione dei punti a terra, quindi dei target, è molto importante perché devono rappresentare il terreno. Nel mio caso è molto semplice perché il terreno è sostanzialmente allo stesso livello, quindi molto pianeggiante. Vi basterà distribuirne circa 4-5 per poter ottenere dei risultati ottimali. Però ricordate che in terreni molto meno pianeggianti, con più differenze, bisogna distribuire uniformemente, sia in altimetria che in planimetria, i nostri target. Il minimo per ogni rilievo sono 7 o 8 target. Per accorciare i tempi, per ogni target che posiziono, batto anche il punto con il mio ricevitore. Come vi ho anticipato nell'intro, sto utilizzando un CHC i50 con il software Lenser 7. 4, 5 e finalmente il sesto. E come vedete, l'operazione è abbastanza semplice. Una volta che ho registrato il punto, posso spegnere il ricevitore e concludere il rilievo. Terminata la fase del rilievo di appoggio, possiamo passare alla fase di volo. Prepariamo il drone. Come vi ho detto prima, utilizzo un Mavic Mini. Per avviarlo è molto semplice, basta aprire le ali, collegare il radiocomando con il vostro tablet o il vostro palmare. Automaticamente mi si apre l'app LICI, dal quale attraverso il mio account mi ritrovo con la mia missione. Nella modalità di volo seleziono Waypoint, che è quella che interessa a me, e nella cartella seleziono la missione che ho importato precedentemente. Appena aperta, me la mostra nella sua interezza e a questo punto mi devo ricordare di inserire come modalità di ripresa le fotografie a intervallo, quindi il timelapse. Impostarlo ogni 3 secondi e il conteggio delle foto deve essere all'infinito. Terminate queste operazioni preliminari, direi che possiamo premere su play e far partire il nostro drone. A questo punto sarà lui a pensare ad ogni cosa. Quando sarà arrivato quasi in posizione, ricordatevi di cliccare sul scatto per far partire il timelapse. Il drone eseguirà tutto il percorso in maniera automatica, con la quota costante, e otterremo tutte le nostre fotografie, che verranno salvate anche queste automaticamente all'interno della scheda SD presente nel drone. Quando la missione è terminata dovrete richiamare il vostro drone e farlo tornare al punto di partenza. Un consiglio se non volete sorprese in ufficio è quello di prendere subito la scheda SD presente nel drone e inserirla all'interno di un pc, come faccio io all'interno del mio cellulare, per controllare subito se tutte le foto sono state scattate. Apro l'applicazione e controllo nella scheda dei media se ho tutte le foto. Ok, ci sono tutte, quindi possiamo andare. Bene ragazzi, le fasi del rilievo non sono finite. Settimana prossima pubblicheremo la seconda parte, così potrete vedere nella sua interezza come eseguire il rilievo topografico con l'ausilio del drone. Se volete supportarci ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale e ci vediamo nella seconda parte. Ciao!